E parliamo un po' di Concord, che sta andando molto male e che difficilmente potrà risollevarsi. Cerchiamo di capire quali sono le ragioni dietro a tutto ciò. Andremo a vedere in particolar modo quello che è un discorso sulla comunicazione e sul marketing di questo videogioco. Io sono Francesco Tognolo, sono un professore universitario, mi occupo principalmente di videogiochi, tra l'altro uno dei vari corsi che insegno è proprio di marketing delle industrie creative. Quindi andremo a vedere un po', nel modo più distaccato che sia possibile, quali sono i problemi che questo videogioco si sta portando dietro e che difficilmente sono risolvibili in diversi casi. Perché ricordiamo anche questo, adesso faccio giusto un paio di premesse veloci. Prima di tutto che a livello di comunicazione, che è quello su cui andremo a soffermarci, noi possiamo andare a vedere che c'è una comunicazione più efficace di un'altra, chiaramente. Ma quello che è ancora più importante è il ragionamento di fondo, che io vado a fare a monte nel momento in cui inizio la progettazione di un videogioco, che in questo caso è iniziata qualche anno fa, e quindi il ragionamento è come vado a realizzare un prodotto che sia di interesse per un determinato segmento di mercato. Quindi quello chiaramente va a influenzare tutto lo sviluppo del gioco e anche tutta poi la comunicazione. Per cui sì, dopo, quando arrivo al momento finale in cui pubblico il trailer, metto la pagina Steam, posso andare ad aggiustare qualcosa. Cioè, è chiaro che posso fare un trailer migliore di un altro, posso impostare la mia pagina di Steam, la pagina sul PlayStation Store in un modo migliore di un altro. Ma se il ragionamento di fondo, alla base, ha dei problemi, quelli non li posso andare a risolvere più di tanto, posso un po' aggiustare il tiro. Per cui ci sono alcuni problemi proprio anche a livello di comunicazione, adesso andremo a vederli, ma ci sono anche dei ragionamenti di fondo che non so come mai, non capisco come mai, non sono probabilmente stati portati avanti nel modo migliore. Dico non capisco come mai perché ci sono casi in cui c'è dietro un investimento monetario considerevole, per cui viene un po' da stupirsi del fatto che, insomma, siano emerse un po' quelle che sembrano, non voglio dire per forza delle ingenuità, ma un qualcosa di strano. Altra veloce premessa, non ho interesse a difendere questo videogioco, ma non ho nemmeno interesse a demolirlo. Anzi, dispiace sempre, chiaramente, quando un team non riesce a raggiungere quello che è un risultato soddisfacente, anche perché poi emergono tutta una serie di problemi. Non mi stupirebbe, ecco, se questo team, che pure ha la sua prima esperienza come team, poi sono tutti professionisti che venivano da videogiochi precedenti, molti da Destiny, ma non sarei stupito del fatto che venisse chiuso e ci fosse un'altra aggiunta, questa ondata di licenziamenti, di chiusure, che si sono viste nell'ultimo periodo. Comunque, detto ciò, partiamo un po' con alcuni punti. Vado un po' in ordine sparso, ma sicuramente una questione che, prima di tutto, ci porta a un ragionamento. Ah, ecco, scusate, dimenticavo anche un'altra cosa, non andrò a parlare invece più di tanto del videogioco in sé. Cioè, andrò a parlare di quello che è il suo contorno. Quindi, chiaramente, emergeranno anche degli aspetti legati all'effettivo gioco, ma non andrò a dire se è bilanciato oppure no. Quelli sono discorsi che non toccano questo punto, perché il fatto di arrivare a ragionare su, appunto, il bilanciamento dei personaggi, il fatto che sia o meno buggato, implicano già un interesse verso il gioco. Qui il problema sta... è il passaggio prima, capite? Cioè, il problema è proprio fare in modo che le persone si interessino del videogioco, vengano incuriosite. Poi dopo possono subentrare altri centomila problemi. Ma, se manca questo passaggio, non arriviamo nemmeno a discutere di quello. Quindi, la prima questione è un po' proprio legata ai generi. Perché noi abbiamo, nel nostro panorama videoludico, tutta una serie di generi, di categorie, che sono particolarmente sature e altre che sono difficili, che sono complesse. Sono due cose differenti e, su questo punto, devo dire, ho visto un po' di confusione in giro. Negli ultimi due, tre giorni mi sono letto molti commenti post, ho visto tanti video, mi sono letto i commenti dei video, insomma, mi sono fatto un po' una visione di insieme anche su come l'utenza reagiva a Concord, che è un punto, anche qui, interessante da analizzare. E dicevo, ho visto in questo, sì, un po' di confusione, perché si va a parlare di questo, chiamiamolo genere, hero shooter. Poi ci sono anche altri termini che vengono messi sul piatto, ma direi che questo è il più identificativo, il più usato dalle persone. E anche qui, poi, questa è un'altra cosa che ci teniamo un attimo da parte, adesso parliamo anche di questo. Comunque, il genere di questi hero shooter sia particolarmente saturo. Ora, non lo vedo come un genere saturo, perché se noi andiamo a vedere quelli che sono un po' i dati, non è che vadano a emergere decine di migliaia di videogiochi al giorno. Vabbè, poi il giorno non escono, è un'iperbole, ma ci siamo capiti. Non è che ci sia, insomma, questa concorrenza fatta di migliaia di titoli. Genere saturo, per esempio, su Steam, è quello dei platform. Lì sì che abbiamo una saturazione in quest'ottica, perché abbiamo un grande numero di videogiochi che vengono prodotti che sono platform, soprattutto 2D. E quindi, in realtà, quello che sarebbe anche il consiglio da dare a magari un team di ragazzi alle prime armi, una persona che vuole fare un suo videogioco, è dire, cioè, guarda bene, studia bene. Non è che devi fare per forza il clone numero 228 di Braid. Certo, è più facile rispetto ad altri videogiochi, ad altre tipologie, quindi spiega anche perché molti seguono quella strada, ma, appunto, c'è una grande saturazione. Quindi, uno può comunque decidere di fare poi un platform 2D, ma deve farlo con questa consapevolezza. Con la consapevolezza che non basta dire, toh, buttiamo lì il nuovo platform e tutto andrà a meraviglia. Ma dovrà fare un ragionamento molto più preciso. Nel caso degli hero shooters, non c'è questo discorso di saturazione, ma ciò non vuol dire che sia facile, perché, infatti, anche qui, se andiamo a vedere i dati, sempre prendiamo quelli di Steam, ci sono dei generi, sottogeneri, che sono molto poco popolati, ma in cui è difficile entrare, per tante ragioni diverse. Per esempio, perché magari c'è una complessità di fondo che è molto più elevata rispetto a, per esempio, appunto, fare il platform 2D, che è un qualcosa, appunto, che per farne uno semplice, basilare, uno ce la fa anche senza, senza mettersi lì a studiare troppo, ok? Poi è chiaro che fare un bel platform 2D sia tutt'altra cosa, e non sto assolutamente banalizzando, anzi, cioè c'è dietro un lavoro, una maestria, una padronanza notevole, ma per dire, riesco a fare un qualcosa che più o meno funziona come platform, ce la si fa senza troppi problemi, in altri casi non c'è questo stesso, questo stesso approccio. Vi vedere, a fare, per esempio, uno strategico, molto più complesso, richiede più persone, più abilità, più competenze. Quindi, ci sono, appunto, generi, sottogeneri, nicchie, categorie, dove non c'è tutta questa concorrenza, ma dove è difficile riuscire ad affermarsi, sia per questa ragione, sia anche perché magari abbiamo già una serie di competitor che sono pochi, ma sono fidelizzati e si sono sostanzialmente già divisi quello che è il bacino di persone. Perché bisogna anche ricordare questo, cioè quante persone al mondo io posso raggiungere con un determinato prodotto. Perché di nuovo ci sono generi che raggiungono molte più persone e sono molto più suddivisi al loro interno. E quindi, come detto il caso, anche lì, torniamo al caso dei platform, ce ne sono tanti, molto saturo, ma io lì dentro, in quella categoria, posso andare a beccare un po' di persone diverse. Il caso ancora più emblematico è il grande mondo dei puzzle game, che saturo oltre ogni limite in tanti contesti, ma ho modo di ritagliarmi tutta una serie di nicchie, di categorie che sono comunque ampie. Perché a livello globale ho se prendiamo i puzzle game nel suo insieme ho decine e decine di migliaia di persone, milioni di persone che ci giocano. E quindi, bene, mi posso barcalinare, posso ritagliare all'interno di questa grande bolla con decine di milioni di utenti e ok, trovo quel gruppo, quel raggruppamento dove vado. Ma già, parlando di hero shooter, già stiamo operando un ritaglio, già stiamo operando un perimetro all'interno di quello che è comunque il mondo più ampio degli FPS. E lì, al suo interno, c'è già una categorizzazione che è rappresentata da quelli che sono pochi videogiochi, ok, come titoli principali, anche perché sono videogiochi che richiedono un investimento temporale e di abilità costante nel tempo. Quindi, di base, se io ho iniziato a giocare a Overwatch e mi sono appassionato di Overwatch, andrò avanti con quello. Magari ne proverò qualcun altro, ma rimane uno di quei casi dove ho un videogioco primario intorno a cui vado a basare tutta la mia attività videoludica almeno all'interno di quel genere. Quindi sì, poi magari gli altri li provo ogni tanto ci gioco, ma già appaiono come esperienze secondarie. Per cui, già questo ragionamento di fondo ci fa dire che si sono infilati, hanno provato a inserirsi in un ambito che è complesso. Quindi, già c'è questa difficoltà di fondo. Che, attenzione, anche qui, non vuol dire che allora nessuno potrà mai più fare un hero shooter, ma vuol dire che tanto più quando mi presento davanti a queste persone devo avere molto ben chiaro che cosa vogliono, che cosa stanno cercando, che cosa sono interessate. E qui, già abbiamo tutta una serie di problemi. Arriviamo anche un po' alla parte di comunicazione, quindi perché questa, come dicevo, riguarda un po' una delle scelte a monte. Adesso vediamo, vediamo a valle e ci sono diverse cose che non tornano, perché già un primo punto, una prima cosa che ho notato molto, come dicevo, ho fatto un po' questa panoramica che ha cercato di essere il più completa possibile su come le persone hanno reagito davanti ai trailer del gioco, davanti alle discussioni, gli youtuber che ne parlano e tutto questo mondo qui. E innanzitutto la prima cosa che salta all'occhio è che il primo impatto è questo è un clone di Overwatch. Però poi quando in realtà le persone iniziano a giocarci molti dicono ma in realtà somiglia più ad altri videogiochi, somiglia più a Destiny, per esempio. Quindi già questo è un punto di riflessione, perché a chi sto comunicando cosa, quindi? Questo è un grande interrogativo da porsi, cioè sto andando volutamente a cercare di prendere le persone che che giocano che amano Overwatch oppure in realtà dovrei cercare di puntare su altre persone, dovrei cercare di puntare più su chi gioca per esempio a Destiny o magari ad altri videogiochi ancora, perché sono pubblici diversi, sono figure differenti. Poi è chiaro che ci sono delle persone che avranno giocato molto entrambi, però di base già devo capire questa cosa qui, per cui è un po' strano, perché se io andassi appunto a cercare di pescare il bacino di Overwatch, cosa che finora non è molto riuscita, e poi queste persone dovessero trovarsi però un'esperienza in realtà differente, già questo va a stridere, ma soprattutto la questione è che cosa in entrambi i casi, cioè a prescindere dal fatto che sia più Overwatch, sia più Destiny, sia più Valorant, sia più un'altra cosa ancora, che cosa aggiunge in più il nostro Concord per differenziarsi? Se andiamo a vedere la pagina di Steam, che è sempre indicativa in questo senso, perché noi quando ci avviciniamo a un gioco per la prima volta, abbiamo tanti punti di ingresso, uno di questi a volte è proprio la pagina di Steam, cioè io sono su Steam, qua sono nella home page, appare un videogioco che magari non ho sentito nominare, o magari l'ho visto mesi prima, non me lo ricordo, vediamo un po' cos'è, clicco, si apre la pagina, la pagina in pochi secondi deve darmi delle informazioni utili, quindi che vadano intanto a farmi dire ok, se questo gioco non è interessante per te, va bene che io vada subito a chiudere la pagina, cioè, faccio un esempio molto semplice, se io fossi un super appassionato di videogiochi di strategia e dovessi vedere un videogioco su Steam che mi sembra uno strategico, lo apro, apro la pagina e mi dice subito questo è un FPS, bene che io vada anche a chiudere subito la pagina, perché non mi interessa quel tipo di giochi, se io fossi appunto molto focalizzato su, io gioco solo agli strategici in tempo reale alla Age of Empires 2, ok, tanto per capirci, quindi, bene che sia molto chiaro anche nel mandare fuori delle persone, ma al tempo stesso deve essere molto chiaro nel trattenere, incuriosire le persone invece che sono potenzialmente in target, che sono potenzialmente interessate a comprare quel videogioco, perché ricordiamolo anche qui che i videogiocatori e videogiocatrici davvero onnivori sono pochi, cioè chi davvero gioca ha di tutto e di più e spesso sono anche persone poi che magari finiscono un po' anche per avere un lavoro che è legato in qualche modo a questo mondo, quindi magari studiano per diventare game designer allora sì cerchi di giocare tutto anche cose che vanno oltre la tua zona di comfort perché così trai magari degli spunti inaspettati oppure scrivi di videogiochi allora anche lì cerchi di farti una visione a 360 gradi ma di base molti utenti sulla massa di chi gioca ai videogiochi hanno comunque delle loro preferenze hanno dei generi delle tipologie anche di immaginari che gli piacciono di più quindi c'è chi magari è trasversale sul genere videoludico però non so che qui esempio molto banale dice io mi piace quasi solo roba fantasy quindi se ci sono draghi spade e mazze chiudate va benissimo se ci sono le astronavi non mi interessa quindi devo dovrei fare uno sforzo molto forte per andare a convincerlo potrei anche riuscirci col tempo ma sarebbe un pubblico freddo quindi che richiede un'attività in più è che non mi interessa puntarlo all'inizio perché quando io vado qui ad esempio la pagina di steam devo cercare di beccare di raccogliere almeno l'interesse di quelli che sono il mio pubblico più caldo più consapevole quelli molto interessati a questo discorso se io appunto vado a vedere la loro pagina la descrizione è per esempio indicativa perché la descrizione anche gli altri elementi allora intanto il titolo non mi aiuta questo è un punto un punto importante cioè in molti casi il titolo di un videogioco mi dà già tutta una serie di informazioni perlomeno mi fa intuire qual è la direzione da prendere un esempio che faccio spesso a lezione che è molto interessante in questo senso è Crypt of the Necrodancer perché tanto è un gioco di parole simpatico ma contiene anche al suo interno già quelli che sono gli elementi legati ai due generi a cui questo videogioco attinge cioè c'è appunto la cripta il necromante quindi siamo in un'ottica di dungeon crawler roguelike ci immaginiamo qualcosa fantasy cioè ci immaginiamo un qualcosa di quel genere però è Dancer quindi capiamo che sarà legato al ballo alla musica quindi anche solo vedendo il titolo già comunque abbiamo delle informazioni qui in questo caso Concord potrebbe essere qualunque cosa in termini videoludici per cui devo essere aiutato da quelli che sono gli altri gli altri elementi la la capsule image ci mostra tre personaggi di cui due sono degli degli alieni intuiamo che quindi è un qualcosa legato allo spazio probabilmente hanno delle armi quindi immaginiamo che si vada a sparare ma anche qui non c'è nulla che ci vada a dire questo è un hero shooter quindi abbiamo bisogno della descrizione o del trailer che parte entrambe le cose di base se io vado a leggere la breve descrizione che è molto importante perché di base appunto dopo che uno ha guardato il titolo la capsule intanto sta magari partendo il trailer vado a leggere quelle righe e qui ci dice unisciti sto citando unisciti all'equipaggio della North Star metti insieme il tuo equipaggio di fuorilegge spaziali free gunner e fai squadra con i tuoi amici online su playstation 5 e pc in concord questa non è una buona descrizione non è un buon testo da mettere qui perché di nuovo non mi sta dando elementi utili non mi sta dando mi dice un po' che cosa che cosa emerge il fatto che si giochi online perché fai squadra online e il fatto che puoi giocare anche con chi ha la playstation 5 ma per il resto se notate questo discorso ordinario unisciti all'equipaggio i tuoi free runner sono tutte cose che noi non sappiamo cosa siano e di nuovo potrei anche aspettarmi che questo non sia un un hero shooter potrebbe essere tutt'altro allora devo andare dovrei andare sotto a capire oppure ecco qui finalmente con il trailer in effetti con il primo video dei due cosa vediamo vediamo allora finalmente che questo è un qualcosa che le persone dicono appunto ah ok è tipo overwatch ma già vedete già da questo discorso tanti elementi risultano ambigui e infatti qual è stato anche un altro punto di dove è emersa una criticità che le persone sono andate a sottolineare il trailer narrativo perché abbiamo avuto più trailer alcuni proprio subito ti mettono lì i personaggi vedi l'azione vedi che si sparano e ok è overwatch 2.5 ma invece il trailer narrativo e altri contenuti oltre persone hanno detto io pensavo fosse un'altra cosa cioè hanno iniziato a darci un occhio si sono magari anche incuriosite poi arriva alla fine e ti dice hero shooter ah ok perfetto non lo giocherò mai speravo fosse un single player perché gli fai anche tutta questa storia un po' alla guardiani della galassia questa nave i personaggi che poi sono tutti amici compagni di squadra vanno in giro per la galassia fanno queste missioni ti viene promesso anche tutto un approfondimento della loro storia ma devi dire fin da subito che è un action shooter un hero shooter se no stai raccogliendo per pochi secondi l'interesse di delle persone che poi se ne vanno però da un'altra parte perché non sono in realtà effettivamente interessate a quello ma poi in ogni caso continua a mancare anche nel trailer anche nel nel filmato che parte su steam quella che è la specificità di questo gioco cioè la domanda di fondo rimane quella ma io che ho giocato tanti anni a overwatch ho giocato tanti anni a destiny ho giocato tanti anni a qualunque altra cosa perché dovrei adesso venire a giocare a concord qual è il punto focale cioè sia il trailer sia la descrizione sia le immagini tutti gli altri elementi dovrebbero sostanzialmente farti intuire che è un gioco come overwatch o destiny o altro lì dipende appunto anche a chi vuoi puntare primariamente ma con questo elemento in più con questo qualcosa di diverso con questo con questa caratteristica che ti farà innamorare del gioco che non deve essere per forza un'evoluzione incredibile radicale può essere anche un qualcosa di piuttosto semplice ma che vada subito a far capire alle persone e dire ok è quel gioco lì che è un hero shooter con questa caratteristica qui che gli altri non hanno o che magari hanno anche gli altri ma questi l'hanno messo in risalto perché non sempre devo per forza appunto nella comunicazione dire che ho qualcosa di assolutamente unico e impensabile magari una feature che anche altri sparatutto hanno ma che la lasciano un po' lì in sordine invece vado a puntare molto su quella perché ho capito che in realtà è qualcosa che al mio potenziale pubblico piace questa cosa manca totalmente all'interno di Concord anche se andassimo a leggere la descrizione nella parte sotto della pagina di Steam che già molti non vanno a leggerla quindi già un problema se in questa parte iniziale appunto della pagina non ci sono quegli elementi che suscitano il mio interesse ma anche se volessi dire facciamo questo sforzo in più andiamo sotto e leggiamo ci sono tutta una serie di indicazioni assolutamente generiche anche dopo aver visto diversi diversi gameplay e letto anche qualche articolo visto qualche video delle poche persone che sono andate a dire che hanno molto apprezzato questo videogioco che tra l'altro aggiungo magari è anche bellissimo e attenzione come detto non vado a parlare poi dell'esperienza di gioco vado a parlare però di come viene raccontato quindi anche le persone che lo hanno apprezzato alla fine cosa sono andate a sottolineare poi come come elementi di unicità poche cose forse ecco forse il fatto che hai modo di avere diversi diciamo diversi archetipi legati allo stesso personaggio perché vai a sbloccarne delle varianti che hanno dei poteri differenti quindi hai lo stesso personaggio di base quindi più o meno le sue abilità i suoi poteri sono quelli però con alcune differenziazioni questo potrebbe essere un elemento da andare a sottolineare eventualmente non è detto che debba essere questo giusto per fare un esempio di uno dei pochi elementi dove ho visto dire ok ecco questo sembra una cosa sviluppata in modo interessante se no l'unico elemento anzi gli unici due mi viene da dire che sono stati segnalati in termini di di riconoscibilità non sono positivi cioè da un lato abbiamo il discorso di dire costa 40 euro e in più hai gli acquisti in game quindi un gas un game as a service con un prezzo di base di 40 euro quando dei tuoi competitor sono dei free to play per cui già è un elemento di differenziazione in negativo perché uno giustamente dice ah quindi devo anche fare questo sforzo ulteriore in termini monetari e di fiducia soprattutto per poterci andare a giocare poi certo uno dice ok ma sul playstation plus lo puoi andare a provare però di base il discorso che è passato è questo e l'altro discorso è che i personaggi sono brutti l'altro elemento di riconoscibilità che molti segnalano è che non gli piacciono i personaggi come sono rappresentati ora anche qui posto che i gusti sono sono gusti ma il ragionamento dovrebbe sempre essere quello di che cosa piace alle persone che io voglio raggiungere quindi va anche bene se poi ci fosse tutta un'altra serie di persone nel mondo che dicono ah quel personaggio è brutto però io non sto parlando a loro ok quindi andrebbe anche bene ma il fatto che questo gioco abbia avuto dei picchi bassissimi quasi inesistenti di videogiocatori viene anche da pensare che non ci sia stato un ragionamento in quest'ottica poi a livello anche mio personale un paio di personaggi sono anche carini un paio di alieni c'è soprattutto il robottone gigante che sono sono anche simpatici a loro modo molti umani sono proprio il contrario dell'ispirazione dell'originalità che mi sta anche bene nel caso di mi sembra si chiama Teo quello che è proprio il soldato standard classico mi sta bene perché su di lui sembra essere anche una sorta di meme cioè il fatto appunto che il suo potere è tutto standard cioè ha il mitra usa le granate e quindi dice potrebbe essere uscito da Call of Duty potrebbe essere uscito da un qualunque sparatutto lo metto lì e quindi ci sta può essere anche una cosa simpatica che anche il suo il suo design sia molto generico un po' appunto il classico soldato sui generis che potresti trovare in centomila sparatutto differenti altri sembrano davvero un po' dei cloni di altri personaggi visti altrove per cui poco poco da dire ecco e vedo che l'opinione generale è tendenzialmente questa quindi è vero anche qui poi che uno dice sì ma un uno shooter di questo genere lo giochi per le abilità vero fino a un certo punto perché l'elemento comunque dell'attaccamento dell'affezione al personaggio è importante soprattutto poi se vanno a puntare loro stessi su questo cioè se c'è tutta questa parte che è stata promessa che emergerà man mano di un contenuto narrativo a settimana dove vedi questa crew spaziale che nel tempo libero si divertono insieme chiacchierano fanno le battute giocano non lo so fanno tutta una serie di attività vuol dire che stai puntando su quello perché se no uno avrebbe preso una strada differente cioè dire lasciamo perdere la componente visiva puntiamo alla sostanza comunichiamo quella ma non c'è questo questo discorso anche perché non può forse neanche esserci contando la natura appunto del gioco dove prevede sicuramente l'uscita nel tempo di tutta una serie di skin alternative di costumi di elementi di personalizzazione visiva e quindi questo elemento visivo deve essere tanto più importante perché di nuovo c'è questa c'è questa discrepanza comunicativa se no che sta prendendo strade differenti e non si riesce a trovare quello che è un elemento di sintesi una quadra all'interno di questo discorso per cui adesso ho già parlato una mezz'ora abbondante quindi direi che possiamo anche chiuderla qui penso che il punto si sia capito ho preso giusto alcune delle tante altre questioni che avremmo potuto affrontare parlando di concord ma penso si sia capito quello che è il punto di fondo cioè il punto di fondo è se fate videogiochi se siete studentesse studenti state iniziando ad affacciarvi su questo percorso date un occhio a questi a questi discorsi qui perché ora è chiaro che quando si parla di industrie enormi totalmente differenti è difficile anche sempre fare una comparazione però almeno questi elementi negativi vi aiutano a capire invece come approcciarsi perché uno può anche delegare la comunicazione ma la comunicazione è fatta in virtù delle persone a cui io voglio vendere il gioco le persone che io voglio raggiungere e quello non è una cosa che penso quando ho fatto il videogioco cioè non è che arrivo alla fine di tutto e dico ok ora come lo comunico a monte all'inizio prima ancora di iniziare a mettere le mani in pasta nello sviluppo devo farmi un'idea devo fare un'analisi di mercato che in molti casi può essere anche un po' approssimativa magari cioè non devo per forza avere 20 consulenti di marketing ma se conosco un settore una nicchia andarmela a studiare anche per conto mio magari la mia analisi non sarà perfetta ma di base mi dà già qualche parametro su cosa queste persone vogliono cosa non vogliono dove si ritrovano cosa gli piace perché se no appunto finisce per avere tutte queste discrepanze e quindi non si capisce se lo stia io lo stia presentando come un clone di overwatch che però in realtà poi le persone dicono ma sembra più destini non si capisce quanto io debba andare a puntare su questo elemento della caratterizzazione dei personaggi che non gli è uscito molto bene da quello che si è visto finora e non si capisce poi perché andare a presentarlo in un modo che faccia dire a diverse persone alla fine di tutto dire ah ma quindi è un un hero shooter io pensavo fosse un single player cioè anche quelli che magari ti dicono oh guarda quel personaggio lì non so per esempio il adesso non mi ricordo il nome ma quella sorta di rettile alieno uno magari dice ah guarda simpatico questo mi piacerebbe seguire le sue storie e poi te lo trovi in un in un hero shooter che anche lì aggiungo quest'ultima cosa sempre legata al discorso narrativo perché andare a mettere tutta questa questa storia in particolare cioè di questa sorta di gruppo di renegades spaziali che va in giro a compiere imprese più o meno rocambolesche poi sono tutti amici se poi il gioco è facciamo dei team 5 contro 5 pescando tra questi 16 personaggi e vanno a spararsi tra di loro manca proprio anche un nesso quindi avrebbero potuto almeno inventarsi una storia diversa dove questi non lo so sono tutti dei mercenari che stanno per conto loro quindi ognuno ha la sua storia ogni tanto si incontrano tra di loro vengono non lo so c'è un committente che paga questi mercenari per andare a fare una missione quindi ti scontri con questi tra questi gruppi di mercenari avrebbe già avuto più senso per sempre veicolare il concetto del gioco invece così davvero uno vede questa cosa ti dice ho la storia poi vedrai le loro imprese spaziali e quando non sono in missione che si mettono lì e cucinano la pasta tutti insieme e poi dici tutto bello ma allora cosa c'entra tutto ciò col fatto che poi vanno in starena 5 contro 5 e si sparano questo è un punto che rimane irrisolto quindi ditemi anche voi la vostra e ci sentiamo poi al prossimo video